Ringrazio e saluto volentieri tutti i lettori di Vercelli oggi, gli abitanti, i cittadini di Vercelli, insomma io qui sono di casa perché ci sono sempre venuto, ci venivo da bambino Vercelli e Novara sono vicinissimi proprio ad un tiro di schiopo, ma io voglio cogliere questa occasione anche il fatto che io sono presente spesso a Vercelli per dire che la filosofia nuova che noi dobbiamo portare avanti è quella di dire e di affermare che il Piemonte è fatto da tanti territori, da otto province, il Piemonte non è soltanto il chilometro quadrato dove ci sono i palazzi del potere a Torino, il Piemonte è fatto da otto province e ogni territorio ha pari dignità, se io mi fermo nel bar a Borgo Vercelli io ho la consapevolezza che quello è Piemonte allo stesso modo di Torino e questo può portare ad un nuovo patto da stringere tra i territori e ad un rafforzamento del Piemonte perché è un Piemonte più unito e un Piemonte più forte che dà anche nuove opportunità a Torino.